Si stringe il cerchio attorno all'aggressore che lo scorso martedì ad indicatore ha coltellato in strada un trettenne, lasciandolo poi sanguinante sulla panchina della fermata dell'autobus. La squadra mobile della questura di Arezzo sta indagando per tentato omicidio. Secondo gli inquirenti, la brutale aggressione sarebbe avvenuta alle 21 all'aperto, non lontano da dove l'uomo è stato poi ritrovato. Al momento si ipotizza che il responsabile abbia agito da solo, nelle mani degli investigatori, indizi che porterebbero ad un sospettato. Si indaga nel mondo della droga, ma gli inquirenti al momento non escludono nessuna pista. Le condizioni del trentenne, un cittadino straniero con precedenti per spaccio di stupefacenti, erano apparse sin da subito molto gravi. Dallo scorso martedì è ricoverato all'ospedale San Donato di Arezzo, dove è stato operato all'addome. non sarebbe comunque in pericolo di vita.